Una domanda all'amministratore delegato di Trenord, volevamo chiederle come si pone la sua azienda in questo momento storico rispetto alle gare che ci saranno nella Lombardia? Noi abbiamo costruito un'azienda proprio per poter essere sereni nella partecipazione alle gare, il titolo del convegno di oggi è emblematico, costruiamoci il domani, Trenord è stata costruita proprio per il domani, per l'apertura del mercato, per la liberalizzazione, per poter competere e non sarà così facile con i grandi colossi europei. La ringraziamo. Grazie a voi. Grazie a voi.